Una cosa mi ha fatto particolarmente arrabbiare, ma davvero pensiamo che questa gente qua sia scappata dalla guerra? Cioè gente che ha visto in teoria atrocità assolute e si lamenta perché vive in periferia e non nei centri cittadini, uno che scappa dalla guerra si lamenta perché vive in periferia, dovrebbe baciare le mani perché vive nelle nostre periferie. Tra l'altro nelle nostre periferie muoiono gli anziani perché non hanno l'aria condizionata e io vorrei vedere i prefetti che si preoccupano degli anziani che muoiono perché non hanno l'aria condizionata, non perché questi signori si lamentano perché abitano in periferia, è una vergogna!